Martedì 9 agosto 2022, ben ritrovati, buongiorno a tutti cari telespettatori di Fano TV, canale 19, come sempre occhio ai giornali alle 7 del mattino in diretta per sfogliare le pagine che abbiamo selezionato per voi, questa mattina come sempre andiamo però prima a vedere il santo, la santa oggi, oggi è Santa Teresa Benedetta della Croce di Saint che è morta in una camera a gas, uccisa ad Auschwitz, il sole è sorto alle 6.04, tramonterà alle 20.24 e adesso andiamo a vedere subito la telecamera che abbiamo selezionato per voi questa mattina eccola qua eccola qua, è la telecamera che ci fa vedere il pincio di Fano, questo in particolare è uno scorcio della statua di Cesare Ottaviano Augusto, sulla destra abbiamo l'arco d'Augusto e poi Porta Maggiore qua sulla sinistra, adesso tra un istante questi sono i giardini Roma, come vedete non c'è nessuno a Fano a quest'ora del mattino, non sta passando nessuno a piedi in bicicletta, tra un attimo se avete pazienza un secondo diamo un'occhiata, non siamo noi che pilotiamo ovviamente in remoto la telecamera, la prendiamo così com'è, ecco andiamo a vedere un po' il traffico, ecco qualcuno in bicicletta, il traffico alle 7 del mattino alla rotatoria davanti appunto a Porta Maggiore, come vedete non c'è nemmeno traffico, calma piatta, allora andiamo subito a vedere il tempo, secondo la protezione civile delle Marche, quello che vedete è il riquadro con le precipitazioni che però sono già avvenute, infatti è piovuto almeno qua dalle nostre parti, questa mattina è stato bello vedere perlomeno a Fano, così come un po' nell'entroterra, le pozzanghere, una cosa che avevamo dimenticato quasi, tanto che non si vedevano più le pozzanghere in strada, ebbene questa mattina le abbiamo riviste, al primo mattino temporali sparsi nel centro settentrino della regione, locali temporali in graduale esaurimento, nel corso del pomeriggio residui e fenomeni sui settori montani meridionali. I fenomeni temporaleschi potranno localmente risultare molto intensi. Allora andiamo invece a vedere domani, mercoledì 10, siamo già al 10 di agosto, quindi quasi a metà mese, durante la prima parte della giornata possibili brevi rovesci locali sui settori montani ed occasionalmente anche nei settori collinari. Giovedì 11 invece, vedete il cielo torna sereno o poco nuvoloso. La seconda parte di questa settimana sarà caratterizzata da un ritorno a condizioni di forte stabilità, quindi temperature poi anche in graduale ripresa. E adesso i giornali Corriere Adriatico, come sempre, il resto del Carlino, edizione di Pesero Urbino. Cominciamo dal Corriere Adriatico. Allora, il giornale delle Marche titola sull'edizione di Pesero, d'apertura per la sanità, sbarco dei privati, verso la conclusione i lavori di una maxi casa per anziani da 240 posti letto alla Psella di Vallefoglia. Previsti anche 23 appartamenti per autosufficienti. Poi a Villa Ceccolini 150 alloggi di edilizia sociale. A centro pagina invece la fotonotizia, con la mappa del degrado in centro a Pesero. Edifici, vie e arredi, tutti gli obrobri della città di Rossini, che in questi giorni tra l'altro è invece sotto i riflettori perché inizia il Rossini Opera Festival. E poi ci sono le Marche al voto, con la spartizione del centrodestra. Fratelli d'Italia si prende tutto il Senato. Mentre a centro pagina, di taglio medio, schianto in galleria, la superstrada chiusa per ore all'altezza di Acqualagna. Siamo dentro la galleria del Furlo. Poi a Pergola un giovane schiacciato contro le rotoballe, quelle di Paglia, nell'azienda agricola. E a Fano guida da ubriachi, ragazzi sottoposti ad un test d'impatto. Hanno fatto delle simulazioni. Salvamento è rafforzato il servizio per Ferragosto. Parla a Fano Pedini. Questa è la settimana ad alto rischio. Fano la spiaggia più insidiosa è quella di Sassogna. Andiamo invece adesso a vedere il resto del Carlino, edizione di Pesero. A centro pagina la fotonotizia che riguarda appunto il ROF. Stasera la prima del festival con le Comteori. Tra talento e genialità tutto il bello del ROF. E poi si tuffa e salva una bambina di tre anni. Tragedia sfiorata in una piscina di Gabice Mare. Decisivo l'intervento di un cinquantenne di Acqualagna. E poi inferno sulla Fano Grosseto. Schianto in galleria. Grava un 85enne. Coinvolti un'auto e due camion. Traffico in tilt per ore. E ancora dalla prima del Carlino il commento il Rossini al Palace. E come la VL al Pedrotti, scrive Franco Bertini. E poi a Pergola carica fieno schiacciato dal trattore. Ferito un 25enne. Agabiccio e Controlli spuntano. Ecstasy e Ashish fuori dalla discoteca. Verso le elezioni Fratelli d'Italia prova a strappare il collegio a Pesero. Sotto invece lo Sport. VL no Loreto. Pizza cambia strada. Dai grandi progetti alla svolta. E poi il caso risolto nel 17enne. Sbattuto in comunità ora riabbraccia la madre. Le pagine interne. Allora ripartiamo dalla questa notizia pagina 17 del Corriere Adriatico di oggi con questa immagine davvero che ci fa capire in quali condizioni è stato tirato fuori questo 85enne conducente di questo veicolo che si è schiantato. Ha tamponato a dire il vero un camion che stava davanti a lui intorno alle 9 e mezzo 9 e 20 di ieri mattina. Siamo sulla Galleria del Furlo che tra l'altro è a doppio senso perché ricorderete qualcuno lo sa chi è Bazzica in zona. L'altra canna è praticamente chiusa perché da mesi mesi e mesi come succede spesso in Italia le strade ci vogliono anni per finirla. Io non so perché ma comunque l'altra canna è chiusa e quindi in quella aperta si va a doppio senso. Insomma cosa è successo? Alle 9 e 20 questo 85enne a Qualagnese ma in realtà lui abita ormai da anni a San Donato Milanese in Lombardia. Ha tamponato un camion poi l'urto l'ha spostato sull'altra corsia dove è arrivato un altro camion. Insomma è stato un patatracca. I camionisti sono rimasti illesi mentre lui la la vista brutta è stato estratto dalle lamiere dei vigili del fuoco. Poi nel frattempo è arrivato Icaro, l'elicottero del 118, è stato portato all'ospedale di Ancone insomma e dovrebbe poterla raccontare. Ma comunque nel tratto di questo incidente insomma poi ovviamente c'è stato anche il disagio alla circolazione. Tantissimi subito appena accaduto l'incidente hanno scritto sul nostro gruppo reporter di strada, un gruppo di segnalatori, un gruppo appunto di reporter che collabora con la nostra redazione dicendo e soprattutto ecco mettendo in guardia le persone che erano in viaggio di non passare di lì perché appunto era tutto bloccato e lo è stato per diverso tempo. Questi sono i racconti dunque sui giornali di questa mattina Inferno in galleria dice scrive il resto del calino invece grave 85enne prima tampona un camion e poi si schianta contro un altro furlo chiuso per due ore paura e proteste questo è il titolo. Andiamo sull'altra pagina invece così ho salvato la bimba caduta in piscina il racconto di Cristian Gamba cinquantenne di acqualagna angelo custode nel vero senso della parola della piccola di tre anni che è rischiato di annegare. Allora siamo come dicevo in quel di acqualagna in una piscina dove una bimba di circa tre anni è caduta all'interno avanti con la testa nell'acqua e questo quest'uomo di cinquant'anni che vedete nella fotografia l'ha salvata. È successo nel tanto pomeriggio di domenica attorno alle 18.30 a Gabice Mare e lui racconta i momenti che ovviamente difficilmente dimenticherà nel corso della sua vita e questo è invece il pezzo che il Corriere Adriatico dedica ad uno invece a un uomo che non ce l'ha fatto, un ragazzo che non ce l'ha fatto perché è stato travolto e straziato da un camion, da un tir, un ragazzo di 22 anni. Siamo ad Ancona, parliamo di Mustafa Ahmed, un profugo somalo di 22 anni morto in un incidente in via Marconi ieri mattina. Qui di fianco invece vedete l'autocisterna che l'ha investito e i rilievi della polizia locale. Ora il camionista sotto shock racconta nella sua testimonianza, dice era a 2-3 metri dal camion, camminava ciondolando e a testa bassa. Si tratta di un autotrasportatore di 54 anni che ovviamente adesso non si dà pace, lui è di Montemarciano che ha investito e ucciso questo profugo somalo in via Marconi, l'ho visto che stava 2-3 metri dalla strada, dopo la fermata dell'autobus camminava a testa bassa con uno zainetto sulle spalle, aveva una ondatura ciondolante, non pensavo che fosse intenzionato ad attraversare. Pochi secondi dopo ho sentito un botto, ho pensato che avesse tirato lo zaino contro la fiancata dell'autocisterna, ho accostato, sono sceso e purtroppo l'ho trovato a terra e lì è stato terribile. Come è potuto succedere non lo so, dice lui, forse ha corso per attraversare ma è impossibile che non mi abbia visto. C'è anche il dolore del sindaco Mancinelli, dolore profondo per questa appunto giovane vittima. Andiamo e torniamo invece in provincia di Pesorubino, sempre dal Corriere Adriatico, schiacciato contro le rottoballe, paura per un operaio ventenne, è un incidente sul lavoro nelle campagne a Pergola, ieri intorno alle 10.30, dove un operaio ventenne è stato trasportato in eleambulanza agli ospedali di Torrette di Ancona per il sospetto di traumi da schiacciamento. In una prima fase il suo stato di salute aveva indotto preoccupazioni piuttosto forti, ma con il trascorrere delle ore poi il quadro per fortuna è migliorato. Il giovane, originario della Nigeria, non è ora considerato in pericolo di vita. Dalla prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Pergola, l'operaio è stato schiacciato fra una banchina di paglia e il trattore che in quel momento era utilizzato per sistemarla. Mentre l'altra pagina, eccola qua, invece del resto del Carlino, a pagina 9, da Pesaro, droga e ubriachi fuori dalla discoteca. Controlli dei carabinieri a Gabic, tre persone segnalate con pasticche di ecstasi e hashish, un bagnino invece al ticcio in motorino. Questa è un po' la cronaca dello sballo, cosiddetto sballo dell'estate, che scrive Davide Suebi, ha un nome e un cognome, cioè pasticche di ecstasi. Andiamo ancora avanti con la rassegna stampa, questa volta per parlare di tradimenti estivi, soprattutto le donne che non si fidano dei mariti e che quindi ingaggiano degli cosiddetti 007, meglio chiamati investigatori privati, che sono persone che poi vengono pagate per pedinare, per controllare, verificare, tenere sott'occhio appunto mariti, ma anche moglie. E allora andiamo sulla pagina di Fano, perché ne parla questa mattina Tiziana Petrelli, tradimenti, le confessioni dello 007, mogli insicure, spesso ha ragione. Alessandro Giuliani, che è il titolare di questa agenzia investigativa, racconta e dice che sono molte le richieste che noi riceviamo, anche due o tre pedigliamenti per sera, le clienti sono nell'80% dei casi donne, vengono già con le foto della donna sospettata e poi si parla di prezzi in questo articolo, perché ovviamente poi vanno pagati questi 007, ma sono, dice Giuliani, sono prezzi abbordabili. Dunque siccome l'estate, ma un po' tutto l'anno ormai per i tempi che corrono, sono l'estate è tempo di tradimenti, di super lavoro per gli investigatori privati a caccia di infedeltà, ingaggiati di volta in volta dal marito, dalla moglie sospettosi, gli 007 di casa nostra passano l'estate a pedinare il coniuge birichino o presunto tale. E lui dice appunto questo titolare, da tre settimane stiamo facendo moltissimi pedinamenti, soprattutto dal giovedì al sabato, beh certo nel fine settimana, e quindi dice anche due o tre pedinamenti per sera. Prima delle ferie ci sono stati infatti un sacco di cene aziendali e ci viene chiesto di seguire il partner per vedere se dopo cena si fermano in giro o tornano subito a casa. E quindi questo è un po' l'articolo che troverete sulla pagina del resto del Carlino. Un'indagine parte dai 500 euro e più e può arrivare anche fino a 4.000 euro. Molti pagano a rate ma si tolgono un pensiero. E vabbè. Allora, questa è la notizia della prima pagina del Carriolo di Fano, quella del Corriere Adriatico invece si occupa di tutt'altro. Servizio salvamento rafforzato una settimana con tanti rischi. Qui parliamo invece dei timori di Pedini che cura la vigilanza nelle spiagge libere e che in previsione del Ferragosto pensa già ai tanti bagnanti che arriveranno qui nel nostro tratto di spiaggia, quello fanese, che non hanno esperienza di nuoto, che insomma non sanno nuotare in definitiva. Ecco, quindi in questi casi bisogna tenere, insomma, bisogna essere ancora più vigilanti. E nello stesso tempo chi sa di non saper nuotare prudenza che non è mai troppa. Poi gestione dei rifiuti, ora viene chiamata in causa la Procura, Tavuglia, Urbino, chiusura accelerata delle discariche senza il piano, esposto di Carbone, consigliere comunale di San Costanzo, mentre sulla pagina 14 del resto del Carriolo un po' di eventi. Per esempio la Festa del Mare, si parla della Festa del Mare che si è appena conclusa a Fano, dove hanno partecipato centinaia di persone, io direi anche forse un po' di più, qualche migliaio di persone per lo show dei fuochi d'artificio, pensiamo già al prossimo anno, dicono gli organizzatori. Poi la birra d'Augusto, a centropagina, c'è pure quella per i cani, quindi anche i cani potranno bere birra. Torna l'evento, stavolta davanti alla Rocca Malatestiana, dal 12 al 16 agosto, poi magari ai cani bisognerà fargli anche il palloncino, comunque per vedere se sono ubriachi. Lavorare in Caritas, bando aperto ai giovani, 20 ore settimanali per 500 ore al mese, queste sono le opportunità che troverete sul Carlino di oggi. Intanto la politica invece a pagina 5, il centrodestra sogna cappotto nei collegi e Fratelli d'Italia punta a strappare la città di Pesaro. Il disastro del centrosinistra sul fronte delle alleanze spiana la strada nel maggioritario alla coalizione guidata dalla Meloni, proposta la candidatura di Giorgio Mocchi, ex sindaco di Piobbico, ma nella ripartizione regionale il Nord dovrebbe andare alla Lega. Mentre ieri alle 14 il Movimento 5 Stelle ha detto stop alle autocandidature. Quindi questo è un po' il quadro che Roberto Fiaccarini fa sulla pagina del Carlino di Pesaro per quanto riguarda la spartizione della torta alle prossime politiche. Mentre da San Costanzo Monteschiantello spunta un altro esposto dopo quello del consigliere Carbone, pure il comitato annuncia iniziative legali, riempiono le altre discariche per giustificare l'ampliamento. Mentre sotto, schiacciato dal trattore, mentre carica, balle di fieno, grave un 25enne a Pergola. La mappa del degrado invece, e torniamo sul Corriere a Pesaro, quei lati oscuri nel cuore della città, strade, arredi, edifici e viabilità, commercianti e quartieri segnalano i punti dolenti e le emergenze. Mentre certi residenti nel centro non hanno senso civico, lo sconforto degli ingegneri Macor di Marche Multiservizi. Allerta meteo invece da Senigallia e Bandiera Rossa, ma sulla spiaggia c'è il pienone, paura alla cesanella per alcuni ragazzi che avevano raggiunto gli scogli, poi sono stati richiamati dai bagnini attraverso l'uso dei megafoni, degli altoparlanti che ci sono lì nelle spiagge, li hanno richiamati indietro e sono ritornati insomma in spiaggia. Mentre la scuola è in lutto a Senigallia per la morte di Margherita Benedetti, la professoressa che amava i viaggi, era di famiglia nobile, Margherita aveva 84 anni ed è morta ieri in ospedale, la professoressa Benedetti aveva 84 anni, mentre i suoi funerali, il funerale si terrà domani alle 9 nella cattedrale di Piazza Garibaldi. Andiamo invece sull'ultima pagina, restando sempre a Senigallia sul Corriere, e qui verrebbe quasi da sorridere, urlano il suo nome nell'assalto alla casa, giovane tradito dagli amici del Branco. Questo è il titolo, sarà facilmente riconoscibile, uno dei cinque bulli che hanno assediato l'abitazione di via Ugo Bassi, dunque tradito dagli amici uno dei cinque bulli di via Ugo Bassi, chiamato per nome durante il blitz notturno di sabato, mentre si arrampicavano a fatica sul cancello di un'abitazione, uno è stato chiamato, il nome è molto particolare e potrà renderlo facilmente individuabile, e quindi gli consigliamo la prossima volta la casa di carta, così magari si trovano qualche nome, tipo Cesano, Marotta, si chiamano con i nomi dei quartieri o dei paesi, delle città, e evitano di chiamarsi per nome. Ora ci fermiamo qui per la rassegna stampa, l'appuntamento con informazioni qui sul canale 19 è per questa sera alle 20.30, come sempre con occhio alla notizia che è il telegiornale locale di Fanotivu. Arrivederci. Arrivederci.